Una corona di fiori per rendere omaggio ai martiri delle foibe e agli italiani che alla fine del secondo conflitto mondiale furono costretti all'esodo dall'Istria, da Fiume, dalla Dalmazia, migliaia di italiani vittime della feroce pulizia etnica consumata dai comunisti jugoslavi del maresciallo Tito, intere famiglie costrette a lasciare le proprie case e i propri averi, donne e uomini, bambini e anziani condotti al massacro per la sola colpa di essere italiani, fatti sparire, spesso ancora vivi, nelle foibe, le profonde cavità del carso, nelle quali per decenni, insieme ai corpi delle vittime, sembra essere stata sepolta anche la memoria di quella tragedia, finché nel 2004 non è stato istituito il giorno del ricordo, celebrato anche quest'anno dai giovani di gioventù nazionale. Il coordinamento di Catanzaro di Fratelli Italia e Gioventù Nazionale Catanzaro, anche nelle difficoltà in cui ci troviamo, ha voluto ricordare ugualmente i martiri delle foibe, una giornata che non può passare nel dimenticatoio, è un nostro dovere sia da cittadini sia da militanti, per questo motivo crediamo che ogni anno è doveroso per tutti noi venire in questa piazza che il comune di Catanzaro ha dedicato ai martiri delle foibe, commemorarla con un semplice corona di fiori e poi il giorno 13 febbraio faremo un sit-in sul Corso Mazzini, sempre con le dovute distanze per ricordare questa giornata che, ripeto, non deve passare inosservata. Grazie. 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 Grazie.